La situazione degli edifici scolastici a Montorio Albomano non è certo delle migliori. È proprio per questo che l'Associazione Genitori per la Scuola si è rivolta al Presidente della Repubblica e non solo, per fare determinate richieste. Quali sono? Allora, le richieste dell'Associazione Genitori per la Scuola, fatti agli enti preposti a quasi tutte le istituzioni, dal Presidente della Repubblica al Ministro, ai nostri dirigenti regionali e provinciali, è quella di vedere riconosciuto al bambino il diritto allo studio, ma in assoluta sicurezza. Noi chiediamo che sia fatto in assoluta sicurezza. Le nostre scuole non sono sicure, non sono adeguate per il territorio che ormai ci siamo accorti che trema e continuerà a tremare purtroppo. Quindi la nostra richiesta, noi non stiamo manifestando, non stiamo neanche protestando, la nostra è una richiesta di assistenza a questi bambini che attualmente si vedono, si sentono inferiori. Hanno scritto anche una lettera al Ministro Federico dove scrivono che si sentono inferiori al resto d'Italia perché attualmente hanno fatto una quarantina di giorni di scuola a Montorio sui 100 che dovrebbero essere stati fatti. Dunque le scuole sono agibili ma non si sentono sicuri. I ragazzi come dal resto i genitori? No, io sono anche un genitore, non mi sento sicuro in queste scuole ma soprattutto perché abbiamo constatato che il momento è terribile, ogni due mesi c'è una scossa. Finora siamo salvati, tra virgolette, perché durante le scosse i bambini non erano a scuola, vuoi per l'estate, vuoi per quella del 30 ottobre e la domenica, adesso c'era la neve. Quindi immaginiamo il panico che si potrebbe creare. Attualmente noi non siamo sicuri. Io vorrei che i miei figli, al momento che si verifica la scossa, vorrei poter pensare che per fortuna sono a scuola e invece in questo caso siamo nella situazione di dover pensare oddio, siamo a scuola, andiamo a riprendere perché purtroppo i nostri edifici, ma come il resto della provincia non ci stiamo battendo per Montorio perché abbiamo anche un iter per il polo scolastico già finanziato, fondi già riconosciuti, però la nostra burocrazia ci ha bloccato tutto ed è per questa la nostra richiesta più grossa è questa, il taglio della burocrazia e la costruzione del polo scolastico. Noi chiediamo questo fortemente, se ce n'è bisogno andremo non a protestare, a richiederlo a Di Sabatino, ad Alfonso, andremo a Roma. Siamo uniti insieme all'amministrazione che, ripeto, la nostra non è una battaglia politica, per me se c'è Gianni Di Cento, c'era un altro sindaco, noi appoggiamo questa strada perché è per la sicurezza dei nostri bambini.